E' chiaro che quando è accaduto ieri lascia interdetti, lascia senza parola perché tutto si poteva immaginare. Il fatto accaduto ieri presso la sede della nostra associazione è un fatto per noi inspiegabile, inaspettato e nello stesso tempo ha lasciato sconvolto sia i ragazzi che erano presenti durante l'accaduto, sia gli operatori. E' una cosa inspiegabile, in quanto il ragazzo stava svolgendo la normale attività didattica, seduto al tavolo e purtroppo si è trovato accoltellato. Nessuno di noi si poteva immaginare una cosa del genere. Ma è mai possibile però che in una scuola in cui c'è un recupero scolastico, qualcuno entri con un coltello? Beh, noi, questa è la cosa inspiegabile, non sappiamo come questo ragazzo, né come né dove abbia preso questo coltello. Noi non possiamo fare perquisizione sui minori. Il ragazzo non aveva mai dato motivo di sospettare una cosa del genere. Infatti si trovava qui per istruzione parentale, non perché fosse un ragazzo segnalato dal tribunale o dai servizi sociali per precedenti atti vandalici o altre cause. Era qui soltanto per svolgere una normale attività didattica, per conseguire il diploma di licenza media. Quindi, come sia possibile, ce lo chiediamo anche noi. Però se qualcuno porta dietro un coltello è come se premeditasse quello che poi dovrà accadere. Perché sia stato scelto lui come vittima dell'accaduto non lo sappiamo. Perché era uno dei ragazzi forse più calmi del gruppo. Uno dei ragazzi che non si alzava mai se non alla fine della lezione. Non c'è mai stata una discussione fra i due, almeno fra le mura dell'associazione non c'è mai stata discussione. L'accontellatore vive in un contesto degradato oppure vive in una famiglia normale, tranquilla? Una famiglia normale, tranquilla e che ha partecipato anche alle nostre riunioni. Adesso sarà espulso l'aggressore? L'organizzazione del centro prevede un'espulsione definitiva, in quanto purtroppo è un pericolo per noi stessi operatori ma anche per i ragazzi.